Oggi abbiamo scritto una lettera al Presidente della Commissione Bilancio Boccia perché vogliamo l'audizione del Comitato Promotore di Roma 2024. Vogliamo che Montezemolo e Malagò vengano in Commissione Bilancio e ci dicano come, dove e quale metodo hanno utilizzato per spendere i soldi che nella scorsa legge di stabilità vennero stanziati per promuovere le Olimpiadi di Roma 24. Lo facciamo adesso dopo aver preso atto che la Giunta di Roma finalmente dopo tanta indecisione ha deciso di non portare avanti la candidatura. Ma noi vogliamo sapere dove sono stati spesi soldi pubblici, soldi dei cittadini che praticamente sono andati a finire nel nulla. Non vorremmo che Malagò e Montezemolo li abbiano spesi in feste e festini a scapito di tutti i cittadini.